Bari e dei baresi, no al turismo di massa ma d'elite. Questo è il turismo di massa che porta inquinamento, rialzo dei prezzi, immondizia e ancora non la riconosco più. Sono solo alcuni dei commenti amari lasciati da alcuni utenti sotto il nostro ultimo sondaggio sull'altissimo aumento dei turisti stranieri nel capoluogo pugliese a fronte di un calo di presenza italiane. Considerazioni amare che si aggiungono alle segnalazioni di chi racconta di non riuscire più a tollerare e di doversi mettere in coda fuori dagli storici forni di Barivecchia immerso in una torre di babere di vacanzieri dall'estero solo per accaparrarsi un pezzo di focaccia. Perché a dire di alcuni barivecchiani doc recarsi in un panificio significherebbe sacrificare mezza giornata un lusso che un residente non può permettersi. C'è poi chi dice che i costi sono aumentati e anche un pezzo di quello squisito street food tradizionale non è più conveniente come prima. E allora siamo andati nel cuore pulsante della città proprio a Barivecchia per capire se per i veicoli si respira davvero l'insofferenza emersa sui social in merito a questa invasione di turisti. Invasione non si direbbe, però è bello averli perché forse apprezzano la nostra città. C'è chi si lamenta, qualche barese dicendo ma è diventata troppo turistica, io non riesco neanche più a concedermi un pezzo di focaccia. Si mette in coda, farebbe la fila dappertutto, come se va in un supermercato che se trovi gente deve aspettare. Non è che tolgono niente a nessuno. Il prezzo della focaccia è cambiato in questi anni, è aumentato? Non è aumentato, perché è aumentato per il caro vita che c'è, ma di poco, non di molto. È il giusto. E noi quando andiamo alle altre parti che ci fanno pagare anche l'acqua. Da quanto tempo state aspettando? È un quarto d'ora, stiamo qui, anche venti. Il prezzo della focaccia in questi anni è cambiato? Penso di sì, un po'. No, 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 è accessibile il prezzo, sì, sì. Qua una ruota la paghi intorno ai 3 euro, una ruota diciamo piccola, però è buona. Lei si lamenterebbe lì in fila da Barese di dover aspettare per prendere la focaccia? Pazienza. Chi viene a Bari deve mangiare la focaccia, che è buona in tutti i panifici, bisogna dirlo. Fiore, Santa Rita, anche Santa Teresa, qui nella città vecchia, ma anche in città. E niente, chi non viene a Bari, non vede San Nicolo e non mangia la focaccia, non viene a Bari. Focaccia, sì. Tutti vogliono provare la focaccia qui.